Condividiamo con voi quello che abbiamo ricevuto, abbiamo constatato, toccato con mano che l'Evangelo, il messaggio del Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, come è scritto proprio qui nel Vangelo. Mentre pregavo il Signore mi diede una pace, una serenità nel mio cuore, perché quella era la risposta che volevo ricevere. Non ci sono limiti, cose impossibili, per Gesù il vivente Re dei Re. Se noi cadiamo, quando noi pecchiamo, noi possiamo avere un Avvocato presso il Padre e il suo nome è Gesù Cristo, il Giusto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.